Per quanto riguarda le performance aziendali nel 2012, avendo tre linee di business, siamo andati direi molto bene per quanto riguarda la parte agricola, dove siamo cresciuti del 5% più o meno, mentre abbiamo diminuito in linea con il mercato per quanto riguarda la parte construction, dove abbiamo perso dai 6 ai 7 punti percentuali e siamo leggermente cresciuti, probabilmente in controtendenza rispetto al mercato per quanto riguarda la parte energie rinnovabili. Le opportunità nei mercati emergenti ci sono sempre e questo è qualcosa da tenere presente, da ricordarsi ogni giorno in cui si pensa e si fa qualcosa. Per quanto ci riguarda direi che i paesi del BRIC abbiamo cominciato con la Cina e dove siamo già presenti sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista manufatturiero. Stiamo guardando il Sud America e in particolare l'Argentina e il Brasile, dove comunque c'è una grande richiesta, una grande domanda di meccanizzazione agricola. Il programma è quello di riuscire ad avviare qualche attività, chiaramente cominciando dal punto di vista delle vendite nell'arco del prossimo anno. La collaborazione lunga data con i nostri clienti strategici è dovuta sicuramente al fatto di saper cogliere le loro esigenze, saper cogliere i loro bisogni e chiaramente offrire un determinato tipo di valore, dato solo dall'insieme di tutte le persone che lavorano all'interno dell'azienda. Il fatto di riuscire a seguirli, il fatto di riuscire ad essergli vicino in un mondo che è sempre più competitivo, sempre più difficile e sempre più grande, penso che sia la chiave del successo nelle relazioni che abbiamo con i nostri clienti strategici più importante. Siamo assolutamente convinti e consapevoli del fatto che la sfida per seguire i nostri clienti sarà sempre più difficile, sempre più complicata. Noi abbiamo ad oggi tutti gli ingredienti e tutte le caratteristiche per poter seguire quelli che sono i loro input di sviluppo e di crescita. Siamo consapevoli del fatto che per rimanere competitivi in un mercato come quello di oggi è necessario riuscire ad avere determinati tipi di caratteristiche, sia in termini di flessibilità, sia in termini di qualità, sia in termini di competenze. Stiamo lavorando per cercare di unire questi tre fattori per fare in modo che Comer possa essere un'azienda vincente anche nei prossimi anni.